amici di inno al cinema bentornati sul canale siamo un nuovo lunedì il primo lunedì del 2023 e quindi è il momento di tutti i numeri del lunedì il box office di inno al cinema prima di passare i dati americani internazionali italiani del weekend di chiusura del 2022 un piccolo quadro generale degli incassi in nord america dell'anno appena concluso il totale incassato nel nord america al botteghino dai film usciti nel corso di 12 mesi del 2022 è di 7.37 miliardi di dollari un calo piuttosto importante rispetto al 2019 che consideriamo l'ultimo anno di normalità prima dei due anni orribili della pandemia dove si erano incassati 11,36 miliardi di dollari di fatto se si escludono gli ultimi due anni e non si considera l'aumento del 64 per cento di quest'anno rispetto al 2021 il 2022 primo anno normale per così dire dopo la pandemia è il peggior incasso annuale dal 1999 questo soprattutto a causa di un terzo trimestre che dopo un'estate più che soddisfacente al botteghino non ha presentato al di là di avatar la via dell'acqua a dicembre dei titoli all'altezza della richiesta soprattutto di una parte di pubblico che magari non è interessata a blockbuster e franchise e cose e robe simili ma la nota positiva in merito al 2022 per quanto riguarda il box office degli stati uniti deriva dai dati dell'ultimo weekend 98.7 sono i milioni incassati da tutti i titoli della classifica un aumento rispetto al precedente fine settimana che aveva segnato un incasso di 94.7 milioni di dollari e in sostanziale pareggio con quelli che erano stati soddisfacenti dati di dicembre 2021 dove si erano incassati 98.9 milioni di dollari prima di partire con i titoli una piccola considerazione nei commenti all'ultima puntata della rubrica qualcuno mi ha ammonito di parlare troppo di avatar la via dell'acqua quando si parla di incassi mi viene ovviamente da sorridere una nota veramente a margine questa di cosa accidenti dovrebbe parlare in queste settimane senza contare che poi parlo di tutti gli altri titoli ma quale dovrebbe essere il focus principale se non quello che è un vero e proprio fenomeno al botteghino come da anni e anni non si vedeva e ora a sostegno di questa tesi vi snocciolo tutti i dati relativi gli incredibili dati relativi ad avatar la via dell'acqua al suo terzo weekend negli stati uniti il film di james cameron incassa 63.4 milioni di dollari è incredibile che al terzo weekend si utilizzi il segno più quando si parla di percentuale seppur di poco in questo caso devo farlo più 0.2 per cento rispetto al weekend precedente si tratta del quarto terzo quarto miglior terzo weekend della storia del cinema con 422 milioni totali al box office degli stati uniti si calcola che oggi con la giornata di lunedì dovrebbe raggiungere i 441 stimati di fatto è molto avanti nella sua marcia rispetto ai fantastici dati registrati durante l'estate la top gun maverick nello stesso periodo di tempo il film con tom cruise aveva incassato 395 milioni quindi più di 30 milioni quasi 30 milioni di differenza in vantaggio rispetto a top gun per avatar la via dell'acqua ho utilizzato prima il segno più lo riuso perché nel resto del mondo maniera ancora più clamorosa avatar aumenta del 4 per cento l'incassi rispetto al weekend precedente per arrivare a un totale di 1.397 miliardi di dollari alla fine del weekend appena conclusosi indovinate un po' ci fa considerare il sito box office mojo che utilizzo come riferimento per i dati quando è stata l'ultima volta che si è registrato un andamento così clamoroso non solo in pareggio o in calo sostenuto ma addirittura in aumento esatto nel 2009 barra inizio 2010 con l'uscita del primo avatar negli stati uniti con questi dati il film di james cameron anche in questo momento diventa il secondo incasso più alto superando wakanda forever presto questione di due tre giorni al massimo supererà eh top gun maverick per diventare il l'incasso più alto del 2022 ricordo che maverick aveva incassato 1.49 miliardi di dollari c'è un bel recupero di incassi in cina mercato a cui eh la disney puntava molto visto che uno dei primi blockbuster uno dei primi blockbuster da tempo uscire in contemporanea nel mercato cinese dopo i problemi legati alla alla nuova ondata di pandemia che comunque ancora in essere c'è un bel recupero e in eh in cina avatar la via dell'acqua arriva all'incasso di 153 milioni di dollari va tenuto presente per l'incasso mondiale che top gun non è uscito in cina ma tutto fa pensare che avatar avrebbe comunque superato gli incassi del film di tom cruise anche senza questo mercato fondamentale piccola nota a margine il secondo mercato più ricco per avatar la via dell'acqua nel mondo è la francia con un incasso clamoroso per quanto mi riguarda di 95.1 milioni di dollari a ieri sera incredibile quindi facciamo un attimo una piccola parentesi sulla grande domanda che tutti si stanno ponendo avatar la via dell'acqua raggiungerà i due miliardi di incasso ancora la certezza io al contrario di altri analisti non ce la mettono che io sia un analista io sono un appassionato però alcuni analisti lo danno da per già per certo se vi dovessi dire una percentuale di con l'ottantacinque per cento di sì su qua sulla base di cosa lo dico innanzitutto dei clamorosi dati degli infrasettimanali di solito incassi alti nel weekend non vogliono dire necessariamente grandi incassi nel resto della settimana andiamo così ad occhio ovviamente nell'ultima se nelle ultime due settimane avatar alla via dell'acqua ha incassato in tutto il mondo ovviamente una media di 50 milioni di dollari questo significa che se oggi è un miliardo e 4 entro due giorni e tre al massimo ha superato il miliardo e mezzo e si appresta ad arrivare al prossimo weekend che è l'ultimo delle festività con un incasso che si aggira intorno all'1.7 miliardo di dollari facciamo un miliardo 650 milioni stiamo un pochino più bassi comunque una cifra fra il miliardo e 6 il miliardo e 7 con un altro weekend ricco diciamo che non va a pareggiare cala del 50 per cento siamo comunque davanti a un incasso che entro la fine della prossima settimana si aggira intorno al miliardo e 7 e 50 miliardo 8 e 50 ora sto andando un po' a occhio mi perdonerete se farò delle approssimazioni eccessive anche a considerare da qui in avanti un callo del 50 60 per cento aggiornata considerando anche che tutto gennaio fondamentalmente è libero dalla concorrenza per quanto riguarda il film di james cameron niente fa pensare a un crollo verticale degli incassi dopo il prossimo weekend così come nei giorni di questa settimana appena iniziata niente fa pensare che il pubblico non abbia più voglia di vedere o rivedere il colossal il secondo capitolo di questa saga colossal di james cameron per quanto mi riguarda il miliardo se non è sicuro quasi lo è a quel punto c'è da capire quanto in alto può arrivare i due miliardi e mezzo mi sembrano decisamente eccessivi ma una volta raggiunti i due miliardi io a questo punto avevo dato inizialmente una forbice di incasso che partiva da un miliardo e 8 per arrivare a un massimo di due miliardi e 2 ecco io al 2 miliardi e 2 comincio già a pensare come obiettivo più che fattibile per i film di james cameron in ogni caso così mettiamo anche scritto nella pietra questo togliete la dichiarazione un po sborona e un po eccessiva di cameron che ha dichiarato alla stampa che avatar 2 per diventare per andare in pari con i costi doveva raggiungere i due miliardi è un dato assolutamente assurdo perché anche se diamo per buono l'ultimo budget dichiarato come dicevo la settimana scorsa i 450 milioni di dollari il pareggio sarebbe già arrivato e superato perché sarebbe stato intorno al miliardo e 3 miliardo e 4 per quanto mi riguarda avatar la via dell'acqua è già un successone a prescindere tutto quello che guadagnerà dal miliardo e mezzo in su è grasso che cola ripeto prendete con le pinze con la dichiarazione secondo me o ha fatto confusione con il budget del secondo e del terzo film che fondamentalmente sono stati girati insieme o semplicemente l'ha un po sparata grossa ripeto un po in modo guascone come comunque james cameron ha sempre fatto anche un po per provocare nel corso della sua carriera chiunque provi anche solamente a far passare la via dell'acqua come un flop un flop mi fa ridere come te diciamo un film che ha raggiunto un risultato poco soddisfacente facendo il paragone col primo film con tutto il rispetto per quanto mi riguarda è un folle la corsa ai film di james cameron finora è stata miracolosa soprattutto dopo visto che viviamo nel post pandemia e il mercato è quello che è c'è solo da ringraziarlo perché veramente ancora una volta la sua scommessa james cameron l'ha vinta dando ossigeno non solo alle sale ma anche al modo in cui le persone si relazionano col mercato del cinema in sala quindi per quanto mi riguarda ancora una virgoletta di dubbio me la mantengo ma direi che i due miliardi ormai sono quasi cosa fatta al secondo posto negli stati uniti tra l'altro ripeto il segno più caratterizzano caratterizza un po tutti i dati cosa normale ma non scontata visti i tempi che corrono il gatto con gli stivali che era partito piano ai box office di tutto il mondo aumenta rispetto al weekend scorso del 31 per cento i propri incassi 16.3 milioni incassati nei tre giorni che lo portano a un totale in america di 60.7 milioni di dollari e nel mondo di 135 ricordiamo come abbiamo detto la settimana scorsa che il budget per un film del genere è relativamente basso basti pensare al doppio del budget di strange world che si è tramutato quindi in un flop ancora più clamoroso 135 milioni in tutto il mondo visto che sing 2 che è l'ultimo grande film animato rilasciato a dicembre aveva avuto una tenitura molto lunga in gennaio tutto fa pensare che il gatto con gli stivali possa rivelarsi alla fine un successo se non clamoroso quantomeno più che sufficiente al terzo posto una piccola sorpresa perché black panther wakanda forever al suo ottavo weekend passa dal sesto al terzo posto rispetto alla settimana scorsa aumentando del 38 per cento i propri incassi eh guadagnando quanto 4.8 milioni di dollari raggiungendo un totale di 440 milioni negli stati uniti e 820 milioni in tutto il mondo botta colpo di coda del film diretto da ryan coogler al quarto posto whitney houston wanna dance with somebody il biopic sulla cantante morta prematuramente incassa eh 4.3 milioni di dollari con un calo solo dell'11 per cento rispetto alla scorsa settimana raggiungendo i 16 milioni di incasso totale negli stati uniti al nel resto del mondo nei mercati in cui era già uscito registra un aumento del 29 per cento rispetto allo scorso weekend il totale in tutto il pianeta è di 29.1 milioni un risultato discreto che fa pensare che ancora abbia da racimolare qualche soldo ma che non accontenta visto il budget che avevamo già citato la settimana scorsa di 45 milioni di dollari e il budget è anche il grande problema del quinto film in classifica degli incassi americani Babylon di Damien Chazelle che ricordo costato 80 milioni di dollari cala solo del 24 per cento rispetto allo scorso weekend incassando però solo 2.7 milioni di dollari e arrivando a un totale di 11 per quanto riguarda gli stati uniti non ci sono ancora disponibili dati internazionali ma tutto fa pensare che all'estero le cose non andranno molto diversamente ricordo che in italia il film esce se non sbaglio il 19 gennaio e visto che l'ho citata passiamo alla nostra cara italia dove ovviamente al primo posto troviamo ancora avatar la via dell'acqua nel corso del weekend appena conclusosi il film di Cameron con un aumento del 15 per cento rispetto allo scorso weekend incassa 5 milioni 33 mila e 52 euro una media per schermo di 8 mila 560 per un totale di 29 milioni 161 mila 814 euro questo cosa significa che stasera massimo domani sera avrà superato la soglia psicologica dei 30 milioni e a questo punto dando per scontato che il prossimo weekend con la befana di mezzo sarà piuttosto ricco e che io ripeto do per scontato che non ci sia un crollo verticale degli incassi dei giornalieri tutto fa pensare appunto che i 35 milioni verranno ampiamente superati c'è possibilità a questo punto che i 40 milioni non solo siano un obiettivo ma addirittura un obiettivo da superare c'è chi dà per scontato che dopo la fine delle festività ci sarà un crollo degli incassi di Cameron ma ripeto per quanto mi riguarda nessun indicatore fa pensare a una tendenza del genere ma anche qualora ci fosse un diciamo stiamo parlando di un film che in tre settimane in territura se non in aumento se anche dopo il prossimo weekend si va un calo del 50 per cento per tre quattro weekend consecutivi vi rendete conto ancora di quanti soldi stiamo parlando centinaia di milioni nonostante un calo fisiologicamente legittimo che però ripeto non è per niente scontato al secondo posto il grande giorno il film con protagonisti Aldo Giovanni e Giacomo incassa 1.646.215 euro aumenta del 29 per cento il proprio guadagno rispetto allo scorso weekend con una media di 2.690 euro a schermo arriva a 4.852.562 euro dando per scontato anche qua che il prossimo weekend risulti abbastanza ricco mi viene il dubbio o meglio comincio a pensare che questo film il grande giorno possa riuscire a superare il dato che all'epoca era risultato più che soddisfacente di Odio all'estate che aveva rappresentato un po' un ritorno in grande stile del trio comico dopo tante tante delusioni al botteghino e anche artistiche al terzo posto quella che un po' sorpresa per quanto mi riguarda è stata la vera controprogrammazione di Natale io puntavo più a The Fablements di Steve Spielberg su cui però tra poco arrivo perché dobbiamo dire due parole le otto montagne il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli incassa 888.374 euro nell'ultimo weekend dell'anno con un aumento pensate del 97 per cento praticamente ha raddoppiato l'incasse rispetto allo scorso weekend con una media di 1.882 euro per schermo e raggiunge un ottimo ottimissimo totale di 2.244.016 euro qui il discorso magari è più particolare è vero che è un film tratto da un romanzo vincitore del premio strega è vero che ha vinto un premio a Cannes è vero che ci sono due grandi attori italiani che comunque non sempre ma spesso attirano l'interesse del pubblico fatto sta che io ieri il primo dell'anno l'ho visto in una sala praticamente quasi esaurita vediamo quanta benzina c'è ancora nel serbatoio di questo film che per quanto mi riguarda è una vera e propria grande sorpresa di queste feste cosa di cui sono molto contento perché il film mi è piaciuto anche non poco vediamo a questo punto con il prossimo weekend e poi gennaio dove può arrivare sicuramente sopra i 3 milioni vediamo se riesce ad arrivare più verso i 4. al quarto posto c'è un esordio con una piccola postilla da ricordare ovvero che questo film ha esordito in realtà ieri con qualche proiezione già il 31 dicembre 3 di troppo la nuova commedia di Fabio De Luigi in casa 707.843 euro con una media di 1.685 euro per schermo per un totale di 708.157 ha praticamente iniziato ieri la sua corsa quindi il risultato è più che ottimo sarà la commedia che un po' sostituirà o prenderà parte del pubblico di Aldo Giovanni Giacomo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane tutto fa pensare a un incasso più che dignitoso come negli ultimi anni è successo a tante commedia italiane uscite per il capodanno al quinto posto in tenitura addirittura in miglioramento ancora il gatto con gli stivali in casa 579.035 euro aumenta del 110% il proprio incasso rispetto alla settimana scorsa con una media di 1.395 euro per schermo arriva a un totale di 4.161.143 andamento in Italia come nel resto del mondo partenza un po' soft e una tenitura più che buona esco dalla top 5 per citare appunto il film di Steven Spielberg al sesto posto The Fablements in cassa 504.557 euro e arriva a un totale di 1.489.124 e qui faccio la piccola parentesi perché come sapete a Spielberg tengo tantissimo in molti si sono affrettati a dichiararlo un flop anche ai nostri botteghini ora il film è costato 40 milioni quindi sicuramente non risulterà un successo economico alla fine della sua corsa anche se di fatto non è un film fatto per fare chissà quali incassi è un piccolo film molto intimista per quanto riguarda Spielberg molto legato alla sua storia personale che quindi può interessare gli appassionati ma meno un pubblico generalista bisogna dare atto che aveva iniziato la corsa al botteghino italiano così come nel resto del mondo in maniera molto molto lenta e deludente fatto sta che come dico sempre le feste fanno storia a parte col passare delle settimane e dei giorni ha decisamente recuperato terreno arrivando praticamente al milione e mezzo considerato che ancora tutta questa settimana il weekend di Befana di sfruttamento più un'altra settimana o giù di lì mi viene da pensare che riesca a superare i 2 milioni che ripeto visto l'andamento in tutto il mondo non è un gran risultato ma di cui si può essere comunque soddisfatti al settimo giorno c'è un esordio di Capodanno i migliori giorni altro film italiano che incassa 241.070 euro questo è tutto da vedere cosa farà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane il biopic Whitney una voce diventata leggenda questo è il titolo italiano che non vi avevo dato la settimana scorsa incassa 217.410 euro per un totale di 715.201 non ha attecchito neanche da noi nonostante Whitney Houston sia molto amata anche in Italia il film sulla cantante scomparsa indicativamente direi che può incassare poco più di un milione forse avvicinandosi al milione e mezzo a fine corsa al nono posto segnalo l'ispettore Otto Zamp e il mistero dei misteri con 96.519 euro di esordio al suo primo weekend contro programmazione per bambini piccoli e famiglie in tenitura chiude la top 10 italiana Ernest e Celestine l'avventura delle sette note con 49.155 euro che lo portano a un totale di 135.194 ragazzi Avatar la via dell'acqua si sta dimostrando almeno fino a questo punto un fenomeno degno del primo capitolo della saga io non credo, sono abbastanza sicuro che non raggiungerà i risultati del suo predecessore fatto sta che se tra una settimana saremo qui a parlare di un incasso di fine feste di un miliardo e sette o un miliardo e otto potremo dare a quel punto per scontato il raggiungimento e il superamento dei due miliardi e a quel punto come si suol dire sarà interessante vedere nelle prossime due o tre settimane qual è il limite che può fermare appunto ragionevolmente il film di James Cameron questi sono stati i primi numeri del primo lunedì dell'anno di tutti i numeri del lunedì il box office di Inno al Cinema ci rivedremo sicuramente la prossima settimana ripeto, questa rubrica non sarà costantemente in onda diciamo tutte le settimane la continuerò a proporre solo quando ci saranno film e dati interessanti di cui parlare è inutile parlarne che ne so quando ad agosto non esce un tubo e quindi c'è poco interesse per quanto riguarda il box office Avatar la via dell'acqua come ripeto a qualcuno fa rabbia mi dispiace per loro avrà ancora molte settimane di dati che ci faranno parlare il consiglio è sempre il solito consigliate Inno al Cinema i vostri migliori nemici i vostri peggiori amici seguite il canale social del canale Facebook e Instagram il mio profilo personale privato su Instagram è Michelinno85 seguiteci su quei canali per tutte le novità della programmazione ieri sera è uscita la mia recensione in anteprima di una serie che ho letteralmente adorato Copenhagen Cowboy di Nicholas Winding Refn in uscita il 5 gennaio su Netflix nelle prossime 48 ore usciranno un altro paio di recensioni in anteprima aspettatevi grosse novità perché in questo gennaio molti ospiti straordinari ci aspettano anche per il talk show che è un po' il cuore pulsante o almeno la radice principale sulla quale abbiamo basato il nostro canale il nostro format iniziale per oggi è tutto vi mando un grande saluto un grande abbraccio viva il cinema e alla prossima